Si chiamava Hogan Mills, era un attore il quale si è ammassato, ma prima di suicidarsi ha sparato alla compagna Erica Price e poi, ripeto, compiere il suicidio. Mills era piuttosto famoso per via delle apparizioni nelle quattro stagioni della serie televisiva chiamata Baskets. Era giovane, 29 anni di età, il corpo senza vita è stato trovato dalla polizia dopo la segnalazione di una sparatoria a Mayfield, in Canciuli. Nel discorso, Mills aveva raggiunto la casa della mamma della compagna Erica, dove quest'ultima si trovava con la loro figlioletta di 4 anni. L'attore è entrato, ha sparato alla compagna, ferendole in maniera grave, per poi rivolgere la pistola contro se stesso e compiere il suicidio con un colpo alla testa. Erica è rimasta ferita, ma per fortuna non è in pericolo di vita, si trova attualmente in ospedale in condizioni piuttosto stabili. Vi ringrazio in primis per la visione di questo video di oggi, in secundis per il relativo ascolto, fatemi sapere cosa ne pensate, fornitemi le vostre opinioni. Hogan Mills riposa in pace. Amen.